Cari ragazzi, domani è una giornata molto importante per molti di voi perché inizia l'esame di maturità con la prima prova scritta. So che molti sono preoccupati di dover riaffrontare una prova scritta dopo due anni di chiusure parziali delle nostre scuole, dopo due anni di studio a distanza, ma sono assolutamente convinto che supererete questa difficoltà. Quindi vi auguro di affrontare l'esame con la grinta che saprete sicuramente dimostrare e sono assolutamente certo che darete una risposta eccellente per chiudere nel modo migliore il vostro ciclo di studi.